Eccola qua, già il colore del suo bell'abitino, come dire, ci mette di buon umore, bentornata, è un piacere per noi riaccoglierti, eccola qua, Alessandra, allora io non ti dico di darci, come dire, le previsioni per il 2005, ma visto che le stelle stanno a guardare, non so se non ha il tuo segno, il tuo Natale, le stelle stanno a guardare, non so se non ha... Il tuo segno, il tuo Natale, le stelle stanno a guardare, non so se non ha... Il tuo segno, il tuo Natale, le stelle stanno a guardare, non so se non ha... Il tuo segno, il tuo Natale, che cosa? Allora, io sono del segno dello scorpione, quindi... Anch'io, anch'io. Poi quest'anno il grano è il... Il colpevole? No, è il pianeta dei cambiamenti e quindi ci sono dei cambiamenti in vista. Sì, nella vita privata, nel lavoro, in tutti gli scorpioni. Lo capisco, quindi quello va bene. Tu che sei in quel... Che altro si può aspettare, cose buone nel 2005? Io penso anche il segnidario, tutti i segnidario, quindi il cancro e i pesci. Comunque, lo scorpione il prossimo anno avrà giove, quindi insomma, saremo grandiosi. Ah, è fantastico, ci vuole una bella festizia, eh? Faccia Camilla, bravissima, un caro saluto agli amici di Agnone. Ma sto segreto di questa zucca, è vero che è famosa? Hai dei ridattori molto efficaci, molto bravi. Qual è il segreto? Il segreto? Sempre cose molto semplici e non condirle con tanto olio. Ecco, solo... Sì, esatto. Senti, ma a tuo figlio... Non sono proprio un'ottima cuoca, tant'è vero che stavo per fare un reality sul... Quindi è meglio... E non è detto che non lo faccia, non si sa. Anche questo, un altro mistero. Che bella cartolina, la madonna di Campiglio, eh? Alessandra, impazzita tu. Vero, tantissimo, mi piacciono tanto i bambini. Il tuo bimbo adesso ha... Otto anni e mezzo. E non è il momento di dargli un fratellino? No, perché io guardavo con invidia questa famiglia così numerosa, poi i bimbi sono una grande gioia. Ma non ti piacerebbe diventare... Sì, ti muodare e ricevere amore quando si hanno... Ma che mamma sei? Devi essere una mamma stupenda. Molto dolce. Eh, beh. Sei lì che... Dai a cocco. I genitori abbiamo la missione di far diventare grandi i nostri figli. Sì. Certo, per noi mamme i nostri figli sono sempre dei pezzi del nostro cuore, quindi vorremmo averli sempre con noi. Sì, e quindi siamo un po' le mamme chiocce, penso che si rispecchino un po' tutte le mamme italiane. Sì, ma grado questo però, che cosa sono? Sì, sia sereno e sia... forse soltanto la serenità. La serenità, ma questo è fantastico. E' fondata. Ma cambiamo insieme, e l'oggi è voluto. Sì, a Valeria Manini. Sapete che Alessandra Carale è proprio contenta di avere visto questo servizio perché è una tua amica. Sì, ci conosciamo da tantissimi anni. Quindi sei felice per lei. Sì, e poi secondo me Valeria si merita questo coronamento, questo cammino di vita, diciamo, consacrato da un matrimonio. Ma a me che ti ha confidato qua. Una ragazza sensibile e soprattutto apprezzo che è stata accanto a Vittorio nel momento in cui aveva tanto bisogno. Sì, questo lo hanno detto tutti. E io penso che questa è la prova più grande d'amore che potesse dare Valeria a Vittorio. Beh, questo è molto bello. E anche tutte le dopo poi... Ma cosa che passano? Comunque l'importante è che sia amore sincero e... Certo, glielo auguriamo tutti naturalmente. ...e che Valeria sia felice. E speriamo che abbia un bambino perché è vero. Sì. Penso di sì, penso di sì che lo desidera. Dopo parleremo anche di te. Senti, che bell'abito. Questo è di giusto auspicio per le feste. Certo, non potevo venire alla vita in diretta e non indossare un abito rosso. Ma come fai a mantenerti così bene in forma? Cosa fai? Fai di più palestra? Io sono un po' pigra, però... Ma come fai a mantenerti così bene in forma? Cosa fai? Fai di più palestra? Io sono un po' pigra, però... Ma come fai a mantenerti così bene in forma? Ma cosa fai? Fai di più palestra? Io sono un po' pigra, però... Ma come fai a mantenerti così bene in forma? Cosa fai? Fai di più palestra? Io sono un po' pigra, però... Però? Per fortuna ho un'amica germana che passa da casa, mi fa indossare una tuta e andiamo a correre a Villa Borghese. La mattina? I impegni, quindi... Ah, ecco. E questo dà... Ah, mi fa sentire bene. I risultati sono questi. Caspita, ragazzi, bisogna correre, eh. Ecco, bisogna correre perché... Seguro si sente meglio. Quando fa sport si sente più forte. Grazie, Alessandra. Rumettetela dritta, eh. Proprio lei, Alessandra Canale. Che bello. E grazie anche al nostro abile cameraman. Sì, veramente, sembra una famiglia proprio. Fa piacere che tu ti trovi bene, visto che... Facciamo tanti auguri a Simona Ventura. Ma qualsiasi sovraesposizione crea sempre dei problemi nella vita personale. Comunque, volevo dire a Simona e a Stefano, secondo me, in presenza appunto del loro frutto d'amore, che sono i figli, sicuramente, anche se adesso hanno un momento di crisi, però io penso che loro si ameranno per tutta la vita. Perché hanno insieme i figli, che è il bene primario da preservare e quindi quando si vuole bene, si vuole bene per tutta la vita. Non è che... adesso è un momento così, ma sicuramente si vorranno bene per sempre. Questo lo trovo molto bello, molto... Mi ricollego al tuo discorso, è molto difficile essere la prima, insomma, lei indubbiamente, adesso non voglio giudicare, però, senz'altro, in questo momento è il momento suo, il momento della Simona Ventura. Come no? È molto difficile, perché come lei ha evidenziato, essere madre, essere moglie, essere persone dello spettacolo sono cose... Tu ce l'hai fatta essere tutto questo insieme? Insomma, ho fallito anch'io, purtroppo si fallisce. No, beh, sono parole grosse, sono parole grosse. Però... No. Però è molto difficile, perché ci sono tante prove da superare e sono... c'è già una famiglia normale ha delle difficoltà, figuriamoci con questi tre ruoli. Parliamone fra un momento ancora, grazie. Si prepara al congedo, ahi noi, vorremmo stare ancora tanto con te. Senti, questo Natale come sarà? Con il bambino? Sì, in famiglia, come al solito. E anche... sappiamo che tu proteggi molto la... Sì, è uguale, è un bambino. Tu lo so, ok. Zitti la verità. Allora, fino a qualche... Zitti. Zitti. Fino a qualche tempo fa la cosa che mi importava era il lavoro, ancora adesso, per carità. Perché dopo, non so, 3500 articoli stampa, 47 copertine, 1500 ospitate in televisione, eccetera, era il mio lavoro, la mia vita. Adesso, devo dirti la verità, prediligo l'amore. L'amore è quello vero e spero di trovare... È caduto, è caduto, dottorze. Qualcuno ha avuto delle reazioni, un pezzo di studio. Adesso lo faremo vedere. Non ti preoccupare bene. Insomma, ti ridiamo e scherziamo, come è giusto che sia. E noi ti auguriamo tutto. Grazie per essere stata con noi. Ciao. Sempre affettosissima. Alessandra. Ciao. Grazie. E a presto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Allora, è tutto a posto, Roberto.